Una partita che non ha bisogno di grandi presentazioni, arriva una squadra che gioca giustamente per lo scudetto e quindi con un roster adeguato a questo obiettivo che sta facendo molto bene in Coppa guadagnandosi la qualificazione come noi alle semifinali. Una squadra lunga, completa, con tanto talento, con tanto fisico quindi anche una partita che porta dietro tanti stimoli e che per assurdo ci sarebbe anche poco bisogno di preparare per quanto è alto la qualità del roster di Avellino. Noi abbiamo la necessità naturalmente di ritrovare i nostri equilibri soprattutto fisici perché la trasferta in Russia è stata una trasferta molto pesante abbiamo il problema di Bramos che non sapremo se sarà della partita ma insomma c'è un po' di preoccupazione perché è un infortunio alla gamba che già aveva avuto il problema e la condizione anche di qualche altro giocatore non è ottimale. Questo è soltanto per appurare i fatti. Per il resto siamo pronti a giocare una partita molto fisica, molto dura speriamo e crediamo una bella partita anche di pallacanestro perché sono due squadre che stanno recitando un ruolo da protagonista in questo campionato e quindi credo che sarà anche una bella partita con l'occasione, visto che giocheremo anche per il giorno di Pasqua colgo l'occasione per far gli auguri a tutti i tifosi per una serena Pasqua anche se per noi sarà come il Natale purtroppo una Pasqua di lavoro e quindi niente, ci rimboccheremo le maniche affronteremo questa nuova sfida c'è anche molta eccitazione per questa partita.